Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'impasto per focaccia con farina di tipo 1. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 1, lievito di birra fresco, acqua, strutto, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimbi in modalità spiga per un minuto. Aggiungere il sale. Azionare il bimbi per 5 minuti. In modalità spiga e dopo il primo minuto aggiungere lo strutto dal foro del coperchio un po' per volta. Lasciare riposare 10 minuti all'interno del boccale. Trascorse il tempo, azionare nuovamente il bimbi per 2 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Impasto per focaccia con farina di tipo 1. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!